sono io la morte il porto con l'ambio sono di tutti i tuoi signora e padrona e così sono crudele così forte sono in cura che non mi fermeranno le tue mura no partiamo dal triangolo diretti non tutti quanti se voi pronti e fog invece gli metto una luna vai metti le x sulla gamba sinistra grazie ok iniziamo adesso questa è la palla triangolo perfetto continua anche dopo perché ce li abbiamo tutti dietro gli altri e tienili qua noi ci spostiamo un po' verso la x venite qua sul quadrato su di me venite su di me su il quadrato ride su il quadrato ce ne abbiamo dietro l'altro dopo si si ma dobbiamo fare più ma questo questo è attivo occhio alle strisce occhio alle strisce arriva il bestione prendo dritto portalo fuori dal ride e poi cura veniamo sulla x noi x ok stai lì cur ok dritto mo curviamo x tutto a x adesso tutti x tutto a x sicuro eh eh si perché se non prendiamo più dietro ok prendili prendili dovevamo farlo prima però dai veloci 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 portali fuori il ride ragazzi ok ok dai vai che stanza no dobbiamo andare lì hanno per spostarci noi comunque no beh va bene sì arrivano dai spostiamoci noi lasciamo lì là andiamo sul quadrato del triangolo triangolo seguite sempre il bolo sì sì ancora ancora dritto dritto eh dritto ognuno il suo noi andiamo ce ne andiamo ce ne che qua ci fa male andiamo via andiamo verso la x la x ok ritorniamo sul triangolo adesso che tanto lui rimane qua tutto a giro di qua tutto a x tutto a x triangolo noi triangolo forza si muove un po' x x x tutto a giro di x anche under vai via da fog ok adesso è più facile dai forza rara fare mistero attenti alle strisce attenti alle strisce andate via dal lì rara pieno dei crateri venite cambiate lato ok ok dritto dritto leggermente sul triangolo leggermente sul triangolo venite più giù venite più giù venite più giù anche tu preso x x quello attivo sta dietro però no no ancora preso preso x x x tutto x raga cambiate tenta il fuoco venite qua venite qua andate torno strani i crateri bravi x x x x a manetta vabbè se state là allora soccate attenti al fuoco o che ho strisce questo è sciotta deve girare dai x dai dai x buono bravi dritto adesso no aspetta che gira si ancora un po farlo girare ancora un po vabbè basta ok inizia a andare dritto ok prendili fog prendili andiamo lontani da fog si 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 dritto lo prendiamo dopo questo qua a sinistra verso la x verso la x occhio alle strisce dall'altra parte buono x x tutto x tutto x che li prendi tutti e due e andiamo prenderci quello dietro possiamo stare manchietto coglioni vai 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 x comunque c'è stata max rendita prendete lo slam esatto 20 ma 30 bo 20 yard 3 eccolo poi x adesso ok prendiamo tutte e due quanti ne mancano ok tutto uno ok dai tutta x tutta x che li prendiamo tutte e due andai via da questo stiamo sul triangolo noi triangolo e quella parte menatelo dai appalla su il quadrato menatelo 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 ok portiamoli aggimentini fateli al volo eccolo eccolo arriva adesso sul boss stiamo appalla per le cure ah che indo vai bloodlust appalla su il quadrato dai bloodlust via dalle righe no morto io tirate su Tauro tirate su Tauro via dalle righe tiratemi su raga dai 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 occhia le righe occhia le righe senti non sta scusate ci voleva il power bravi beh se non c'ho power non può tirarti su interno è l'ember è la viola ah ok no l'elmo da ruga che sfida ecco ecco non c'è l'email ah ha messo è l'ember viola perché viola essere l'ember ah è questa quella ah è questa